Perfetto Qualsiasi carpista è consapevole del fatto che migliorare l'accuratezza nei termini di lancio Significa aumentare il numero delle proprie catture Sono sicurissimo che il mio inesco è atterrato proprio lì dove volevo Questo perché sto utilizzando i distance sticks I distance sticks mi permettono di pescare nello stesso identico posto sia di notte che di giorno Seguo un processo molto facile quando utilizzo i distance sticks Una volta trovato lo spot desiderato blocco il filo sotto la clip del mullinello Recupero e poi vado dai distance sticks Metto il piombo attorno a uno dei picchetti Li ho posizionati a 3,60 m uno dall'alto quindi ad una lunghezza di una canna E poi inizio ad avvolgere il filo contando i giri che faccio finché urto contro la clip Nel mio caso io sto pescando a 15 lunghezze vuol dire che il mio spot si trova a 55 metri Tutto quello che devo fare per i prossimi lanci è clipare la canna a 15 lunghezze E fare un lancio preciso e accurato verso il punto di riferimento all'orizzonte identificato in precedenza Così posso essere sicuro che sto pescando nello stesso punto dove ho pescato prima Le distanze le salvo nel telefono così se un giorno dovessi tornare so già a che distanza devo clipare la mia canna E questo è il bello dei distance sticks Potete tornare su un lago e usare ogni volta la canna da marker e fare il plumbing Ma i distance sticks ne eliminano la necessità Potete tornare su un lago, controllate le distanze, salvate nel telefono E tornerete a pescare negli stessi spot dove avete già catturato carpe senza perdere tempo e senza problemi Perchè, la canna da E' un'altra cosa E' un'altra cosa